Oggi è 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, sono venuti qui al reparto degli amici, degli amici di Diamo Una Mano, della nostra associazione, per portare giochi, sorrisi, allegria a tutti i bambini del reparto di oncologia pediatrica e di ematologia e diabetologia, un mucchio di regali per i bambini dai neonati fino ai 18 anni. Che cosa possiamo dire? Ovviamente diceva una mamma di un bambino, poc'anzi, dice che bel momento di allegria, che vedere una stanza piena di giochi, ma tutto sommato, mi dispiace dirlo, ma ha anche tanta tristezza. Certo, non è piacevole avere tanti giochi in un reparto, quale è quello di questo ospedale, dove comunque è fonte di sofferenze. Dal canto nostro, come dal canto di chi ci aiuta, cerchiamo di dare una mano ai bambini per cercare di accompagnarli comunque nel gioco, nel sorriso, nel decorso della loro malattia. Alcune vanno bene, alcune meno. Certo, la vita purtroppo è questo. Molti dei bambini di questo reparto provengono dalle varie zone più disparate di Napoli, in particolare anche l'area nord, Marano, Villaricca, Giuliano, Lago Patria, insomma, sono bambini anche con condizioni notevolmente disagiate, inquinamento, spazzatura e quant'altro ovviamente non lo siamo neanche a immaginare. Che dire, la nostra associazione si occupa anche di donazioni di sangue, cerchiamo di spingere molto la donazione del sangue, che è molto importante, si dona tutti i giorni, dalle 8.30 alle 12-13 circa, anche il sabato, è il padiglione principale del primo policlinico, donazioni del midollo, scrivendosi nelle liste, e tutto quello che, insomma, basta un piccolo gesto, diciamo noi sempre, per salvare una vita. Non c'è bisogno di avere superpoteri.